Salvatore Riina è morto. La mafia? La mafia no, ancora la mafia esiste. La mafia no, ancora la mafia no, ancora la mafia no, ancora la mafia no. La mafia no, io ho perso un figlio, penso a me se posso provare pietà. Quindi dispiace come tutte le persone umane, uno dispiace e morto, ma pietà niente, neanche qualcuno mi ha detto ma lo perdono, ma che per non perdonare? Lei non può perdonare. No, ma non esiste proprio. Perché lei però per lui ha ucciso. Per lui sì, quando è in guerra di mafia. Che ha fatto? Ha ordinato la morte di suo figlio, di Giuseppe, dopo 779 giorni di prigionia, lo hanno strangolato e sciolto nell'acido perché lei si era appena pentito e volevano che lei ritrattasse. Sì, io non potevo ritrattare, perché uno quando fa un passo, a prescindere che non avevo niente da ritrattare perché già io, quando ho parlato io, mi sono messo a collaborare io con lo Stato, davanti a me ci avevano i collaboratori loro. Bagarella ha due parenti collaboratori, Rusca, Rusca non ne parliamo. Lei lo ha conosciuto bene, ha ucciso per conto di Salvatore Riina. Sì, abbiamo fatto qualche micina quando c'era la guerra di mafia, però conosco a lui da quando ho aperto gli occhi, da quando avevo 4 anni. Lei nel 1970 aveva 16 anni, ma in quegli anni Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, cioè i corleonesi, cominciano la scalata ai vertici di Cosa Nostra. Sì, mi pare che dopo i 70. E quindi a suon di morti, c'è una guerra di mafia con centinaia di morti. Un centinaio, fino al 92, fino a che lo arrestavano, saranno un 2000 dei morti ammazzati. Ma poi era una guerra e tutti dicono c'è la guerra, ma la guerra di che? C'è la guerra solo da una parte, perché mica c'era quella che quelli intervenivano sul Reino, di noi, era solo una parte. Senta, in quegli anni lei era già mafioso perché suo padre era mafioso, quindi la sua è stata una famiglia di mafia. La mia famiglia, sì, ma io sempre l'ho detto, mia famiglia era una famiglia mafiosa. Quindi lei era mafioso? Sì, sì, ma io dal 78, anche se io ci stavo già da prima perché sapevo tutto, no? Una volta che tu stai nell'ambiente, sai, no? Non c'è bisogno che ti... E poi piano piano invece mi hanno fatto l'affiliazione, come tutti gli altri, ho fatto della santina, la puncettina del dito. Lei ha visto per la prima volta Salvatore Riina quando era piccolo e da mafioso, quando lo ha conosciuto. Ma gli ordini lui li dava a Brusca, no? E poi Brusca ci diceva dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Gli ordini li dava lui, come se me lo stava meglio, gli dava a Brusca, ero uguale, no? È l'ultima volta che lo ha visto. Ma io l'ho visto nel 91. Dove? Prima che facevano le strade, in un posto vicino Palermo. Sono andato là e siamo salutati, siamo visti. Qual è stato l'errore più grande di Salvatore Riina? Secondo me la prima cosa, la prima cosa, il più grande è mettersi prima contro la mafia, perché ha fatto uccidere un sacco di persone, anche se erano mafiose, sempre persone sono, e poi mettersi contro lo Stato. Quella è stata la mela che ha fatto cascare tutto il castello. Perché non si è pentito? Ma Riina secondo me non aveva niente, ma perché lei pensa che una a 70 anni, 80 anni si pende più? Perché tanto dice ormai la mia vita è finita, che c'ho da pentirmi? E poi che c'ha da pentirmi? Ormai sanno tutto di tutto, che c'è da pentirmi? E lo stesso quando in Marriina si porta lì dei segreti. Ma non si sa ancora tutto. Ma non si sa perché ancora, per esempio, la politica con Riina, Ciancimino, no? Eh. Questo so, ma si sapeva che... I servizi segreti. Questo non lo so. Le stragi sul continente. Continente, Graviano. Quelle strage sulle chiese, no? Lui pensava che lo Stato si inginocchiava a lui. Invece non è stato così. Chi prenderà il comando di Cosa Nostra? In questo momento c'è Messina Denaro e per intanto resterà a lui. Come avviene l'elezione di un capo? Allora, c'è un capo e... A prima, ora non lo so, guarda chi arriva prima si mette davanti. Non è come una volta. Ma c'è il rischio di una guerra? Ci può essere tutto, Dottor. Ci può essere tutto, però guarda in questo momento... Ma che c'è chi comanda? Cioè, tutte comandano e nessuno è il capo. In questo, se pensa in questo... C'è solo Messina Denaro che dirige lui. Certo, mica queste persone che ci stanno fuori non si possono organizzare. Si possono sempre organizzare. Salvatore Riina è morto. La mafia? La mafia no. Ancora la mafia esiste. È morta la persona. Dice come quello, è morto il maestro, ma la musica esiste. Ripensa mai alla strage di Capace? Non ci voglio neanche pensare più a questa cosa. Ma no perché, perché si è stato fatto troppo male. Le pesa il suo passato? Certo, il passato mi pesa. Lei avrà fatto una promessa a Giuseppe? Quando ci incontreremo, quello che mi vuoi dire dice, io ci ho provato a liberarti. Non mi è riuscito. Mi sembra che il bambino fosse fatto più dei collaboratori. Il bambino ha sconfitto la mafia e l'ha rovinato tutto. Quanti anni aveva quando è morto? 12 anni. Giuseppe mi ha fatto rumore e farà ancora rumore, perché sempre se ne parlerà di Giuseppe. Perché è il bambino che veramente ha sconfitto la mafia, la mafia vecchia.